Un centro anziani organizza una bella gita a Roma-Firenze e tutti questi vecchietti che salgono sotto pullman vanno in direzione di Firenze quando a un certo punto all'altezza d'Orvieto una vecchietta si avvicina all'autista e gli fa, magnate queste noccioline, una manciata di noccioline, questo non comincia a mangiarle grazie, grazie, dopo un po' di chilometri la stessa vecchietta gli porta un altro po' di noccioline tiè bello mio, magnate queste noccioline, grazie, ma com'è tutte queste noccioline? ma poi ne mangiate, dice no, noi ci succhiamo solo la cioccolata perché le noccioline ci rompono la dentiera